Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo Mythbusters, oggi parleremo dei latticini e la pelle spessa. I latticini che fanno venire la pelle spessa, è vero o non è vero? Allora, il discorso è abbastanza... meno scontato di quel che si crede, perché generalmente la risposta è no, non è vero, i latticini non è che di per sé fanno venire la pelle spessa, ok? Questo è abbastanza pacifico, però ci sono dei casi in cui abbiamo e assistiamo a questo effetto. Il discorso è semplicemente che l'uomo, come specie animale, è tendenzialmente abbastanza sensibile al lattosio, ossia noi abbiamo un enzima, ossia la lattasi, che è deputata all'assimilazione, alla corretta digestione e assimilazione del lattosio, quindi alla processione del nostro organismo. Il problema è che è un enzima molto sensibile in qualche modo, che va spesso incontro a una disensibilizzazione, nel momento in cui stacchiamo un minimo e non mangiamo il latte, ossia normalmente quello che succede da un punto di vista enzimatico nel nostro organismo è che nel momento in cui noi mangiamo determinati nutrienti, il nostro corpo produce tutti gli enzimi di cui abbiamo bisogno, ma in molti casi, nel momento in cui non introduciamo un determinato alimento, un nutriente, un molecola per tanto tempo, il nostro corpo smette di produrre l'enzima deputato all'assimilazione, alla digestione, alla processione di quella determinata molecola, di quel determinato nutriente, questo semplicemente per un discorso logico di evoluzione, di risparmio di energie, se qualcosa non serve è inutile che il nostro organismo va a produrlo. Ovviamente nel momento in cui introduciamo gradualmente l'alimento, allora il nostro corpo ricomincerà a produrre tale enzima, però questo processo viene definito di specializzazione enzimatica, ossia il nostro profilo e pool enzimatico si specializza in base a quello che mangiamo. E questo è uno, non tutti, ma uno dei motivi per cui quando andiamo all'estero, mangiamo cucine molto particolari con ingredienti che normalmente non siamo abituati a assimilare, al di là di quello che è la brutta reazione della nostra microfola bratterica, abbiamo delle brutte reazioni in generali, perché abbiamo la nostra specializzazione enzimatica che è settata su quello che normalmente andiamo a mangiare. Ovviamente questo è un discorso di sensibilità al lattosio, e abbiamo tutta una serie di altre sfumature che sono i quadri di intolleranza, addirittura allergia al lattosio, che logicamente comportano una risposta negativa al nostro corpo. Ora, che cosa succede quando il nostro corpo riceve un danno metabolico, un danno tessutale e risponde con un processo di infiammazione? Nello specifico che cosa succede? In realtà iniziamo ad avere stress intestinale, abbiamo una rottura dell'omeostasi, e quindi tiriamo acqua, ossia semplicemente abbiamo un accumulo di acqua a livello extracellulare. Da qua l'idea della pelle spessa. Non è pelle spessa, è semplicemente che abbiamo un po' più di acqua a livello extracellulare. Il quadro e la nascita dell'agenda è questo, che durante un periodo di preparazione ad una gara in cui la pelle è molto molto sottile, quindi qualsiasi variazione ce ne accorgiamo subito, magari alcune persone avevano la brillante idea di rinserire di botto i latticini per chissà quale ragione, e vedevano che iniziavano a tirare acqua, ma semplicemente perché appunto non riuscivano a processarli, ad assimilarli al meglio. Quindi si creava una serie di scompense a livello gastrointestinale, magari anche un richiamo di acqua e quindi fenomeni di diarrea, quindi conseguentemente abbiamo un accumulo di acqua a livello extracellulare. Però, ripeto, non deriva dai latticini per sé, quanto piuttosto dal fatto che se li mangiamo e li digeriamo bene, allora conviene mantenerli, salvo ovviamente il profilo lipidico che non è il massimo per i latticini grassi, però al di là di questo conviene mantenerli anche semplicemente un minimo nel corso della nostra giornata, nel corso dell'off season e tutto il resto, e se li digeriamo va bene. Se invece abbiamo problemi nella gestione del lattosio, allora conviene direttamente andarli ad eliminare, soprattutto se abbiamo intolleranze o d'allergia. Quindi dipende semplicemente da quello che digerite e quello che riuscite a assimilare. Ricordate di non andare a eliminare di per sé delle fonti alimentari. Mangiate sempre, cercate di avere una rosa di alimenti quanto più ampia possibile, però balasatevi giustamente anche sulla vostra tollerabilità e digestione. Non sottovalutate mai i mousse, ossia i sintomi vaghi e specifici a cui tutte le persone sono soggette, ma una persona che si sente un po' upset, un po' in fastidio da un punto di vista gastrointestinale, nel quotidiano non ci fa troppo peso. Ok, oggi sto un po' così a posto, va bene, domani mi passerà. Noi ci dobbiamo allenare, mettiamo il nostro corpo sotto tanta pressione, quindi abbiamo molto più rischio che questi mousse vadano a cronicizzarci e dobbiamo farci più attenzione della persona sedentaria. Quindi in questo caso dobbiamo essere in qualche modo un po' più fiscali con tutte quelle fonti che soprattutto superate una certa quantità, perché se ne mangiate poco magari non avete alcuna reazione, ma se superate un tot che dovete scoprire voi stesso scatta la reazione, quindi dobbiamo essere un po' più fiscali con queste scelte. Detto questo è tutto, qua sotto nei commenti per qualsiasi domanda e noi ci vediamo al prossimo video.